oggi parliamo di un film molto particolare decisamente atipico nella filmografia del regista che è pasquale festa campanile che solitamente ha diretto per la maggior parte della sua carriera commedie e stavolta si lanciano il thriller con un risultato assolutamente stupefacente un thriller atipico che sono convinto se fosse stato girato in america o se fosse stato un film americano avrebbe secondo me avuto un successo strepitoso invece film italiano e quindi anche se il cast è abbastanza internazionale tolto il protagonista che è franco nero gli altri due coprotagonisti sono la bellissima corin clary reduce dal successo di stuardo bellissima forse una delle donne più belle del mondo e il terzo protagonista è david s cantatore attore cantatore americano che praticamente dopo aver fatto il film con west kraven l'ultima casa sinistra e praticamente è stato condannato a fare la parte dello psicopatico in ogni film quindi il il matto lo psicopatico il killer l'ha fatto qui l'ha fatto nel film di kraven lo rifarà in seguito nella casa sperduta nel parco di deodato insomma evidentemente gli calzavano con questi ruoli di questo tipo thriller dicevamo e thriller non solo ma thriller on the road tutto girato praticamente in una macchina una macchina e un arlot tutto girato in abruzzo sul gran sasso però sembra sembra ritrovarsi sulle strade della california las vegas los angeles ma più las vegas veramente comunque perché perché hanno girato lì mettendo i finti cartelli autostradali americani per far sembrare che il film fosse appunto girato lì ma invece è stato girato tutto in abruzzo dalle parti del gran sasso brevemente una coppia franco nero un giornalista assolutamente spreggevole disdicevole in ogni atteggiamento nei confronti della moglie un alcolizzato un mezzo farabutto un fallito insomma chi più ne ha più ne metta e la moglie corinclérie sono una coppia che viaggia in vacanza con la loro macchina e l'arlotte dopo un periodo trascorsi in un campeggio stanno facendo ritorno a casa lungo la strada hanno la sventura di caricare a bordo della macchina un autostoppista un ishiker come il titolo originale in inglese questa autostoppista inizialmente diciamolo tranquillo gentile c'era alla fine si scoprirà che un rapinatore ha rapinato una banca viaggia con una liggia con due milioni di dollari ed era con altri tre complici che tra l'altro uno l'ha ucciso e negli altri due gli stanno dando la caccia la storia va avanti con una serie di colpi di scena perché non ci vuole molto a capire che il rapporto tra il marito e moglie e l'ospite diventa difficile da gestire cominciano le minacce la violenza la povera corinclérie viene anche stuprata insomma una situazione veramente complicata perché poi il viaggio si fa si fa lungo ci sono posti di blocco della polizia è una situazione di continuo crescendo e di tensione che questa campanile gestisce molto bene devo dire il film è ottimo sotto tutti i punti di vista del ritmo della tensione della tensione che riesce a tenere nello spettatore che praticamente non ha un attimo di tregua perché succedono continuamente delle cose e per poi giungere alla fine a un finale totalmente cinico e beffardo che ovviamente non possiamo svelare ma che secondo me chiude perfettamente il film nella maniera perfetta proprio nella maniera ottimale quindi autostop rosso sangue 1977 abbiamo detto franco nero con incleri david s in una piccola particina c'è anche monica zanchi eserdiente non si vede nel camping poi altri attori non mi ricordo john dulane mi pare il ballarin dei film di conto massimiliano delle squadre vabbè insomma più che altro il 90 per cento del film si svolge solo con i tre protagonisti principali che sono la coppia più l'ospite e film che assolutamente consiglio non non ha punti deboli assolutamente perfetto e l'unico punto debole in realtà è la distribuzione italiana allora qui abbiamo un bellissimo blu ray eccolo qua blu ray inglese della 88 films blu ray inglese ovviamente con audio italiano perché averte chiusa parentesi io compro il blu ray dvd di film italiani anche usciti all'estero ma devono avere la traccia italiana perché se non hanno l'italiano io non li compro ma quello il film è stato girato in inglese la riguola originale inglese ma sti cazzi io voglio in italiano il film quindi se non è in italiano ci ciò i nostri amici inglesi fanno la copertina reversibile questo è con il titolo italiano ma c'è anche per il loro mercato con il titolo vedi ishiker molto carino devo dire una buona edizione ma ce n'è anche un'altra un'edizione tetesca della fdb film ecco qua questa qui perché è molto molto interessante oltre a essere in blu ray è un combo quindi c'è anche la versione in dvd ma c'è anche un terzo disco quindi tre dischi signori non due tre ecco qua guarda che bello c'è un terzo disco allora c'è il film in blu ray poi c'è il film in dvd e poi c'è un terzo disco con un documentario di circa un'ora e mezza dell'amico federico caddeo che intervista con inclery franco nero franco nero e franco nero mentre invece con inclery e david est sono interviste d'epoca prese da un vecchio dvd della blunder ground se non mi ricordo male comunque notevoli molto interessanti e soprattutto ci sono degli aneddoti molto carini raccontati da neri parenti che l'autoregista è stato l'autoregista in questo film di campanile e racconta delle cose che sono davvero carine e notevole un'ora e mezza di documentario il film il blu ray il dvd ma che cacchio volete di più la cosa simpatica e divertente che poi mi fa mi fa sorridere che qui c'è anche il logo minerva pictures cioè i diritti italiani sono della minerva al film in italia non esce non si sa perché forse non lo so pensano che non venda non ho proprio idea un film del genere secondo me merita assolutamente una riscoperta straconsigliato molto molto bello tra l'altro nel finale c'è una un espediente della macchia d'olio che fa andare fuori strada i malcapitati una macchia d'olio messa apposta insomma sulla strada ed è una cosa che accadeva anche nel provizio nella stanza chiusa quindi alla fine si torna sempre lì vabbè è un'analogia ma così giusto per da vedere da vedere da vedere da vedere